mister buon primo tempo per cosa è successo un buon primo tempo sì dopo purtroppo secondo gol ci ha fatto uscire dalla partita cosa che non deve accadere nonostante avessimo avuto una visilia tormentata e che ci ha fatto arrivare mari un po meno lucidi a questa gara però nella prima pagare abbiamo fatto nella prima parte ha fatto una buona gara dispiace perché poi abbiamo rovinato tutto e questo questo non dobbiamo non dobbiamo più commettere non dobbiamo più fare come si riparte dopo una sconfitta così si riparte con la rabbia con la rabbia che ci deve restare dentro però dopo una sconfitta del genere si riparte facendo tesoro degli errori che abbiamo fatto stasera perché non dobbiamo più ripetere determinate errori o comunque determinati aspetti devono non devono accadere ripeto non è stato semplice sono stati due giorni complicati però senza crearsi degli alibi non è stato semplice però non dobbiamo imparare a gestire determinati momenti e non magari abbatterci a un momento nel momento difficile della gara anche perché poi oggi troviamo il napoli da questo punto di vista ne ha approfittato tanto però è quello che fino a fine del primo tempo abbiamo fatto una gara alla pari e siamo stati pericolosi quanto il napoli magari loro hanno fatto quello noi no e questo deve restare un aspetto sul quale ripartire ma anche il secondo tempo bisogna ricordare determinati momenti per non ripetere più questo errore quanta voglia di riscatto c'è già a partire con la gara del coltorino ma adesso c'è c'è la voglia che arrivi questa gara più in fretta possibile perché dobbiamo ripeto dobbiamo mettere alle spalle questo questo secondo tempo per metterle alle spalle abbiamo solo bisogno di un'altra gara per cui deve arrivare speriamo aspetteremo ci prepareremo al meglio appunto perché bisogna per mettere alle spalle è una cosa così bisogna ripetere la prestazione di settimana scorsa e del primo tempo e non cadere e far vedere che non si cade più in certi errori